Proprio perché siamo nel settore biologico e quindi abbiamo un'ulteriore riduzione dei prodotti ammessi contro le maggiori e le principali fitopatologie, siano esse dovute a insetti che dovute a fitopatologie micotiche fondamentalmente, la necessità delle aziende agricole, come per l'azienda agricola Grill Bio, realmente ed effettivamente biologica è quella di ottimizzare i pochi prodotti ammessi all'interno dei piani di lotta biologici con dei prodotti che abbiano un effetto corroborante o meglio aiutino e amplifichino l'effetto dei normali prodotti chimici utilizzati. In questa azienda agricola sono state fatte, è stato creato un piano di lotta appositamente basato sull'utilizzo di ZEM70, quindi di una zolita micronizzata che viene alle volte all'interno del piano di lotta somministrata anche solo in purezza, con l'effetto di, come si diceva, asciugare fondamentalmente la superficie fogliare e con un effetto deterrente importante nei confronti di alcuni insetti che apportano grosse fitopatologie alle coltivazioni.